L'associazione Gabri Little Hero nasce partendo dall'esperienza di Gabriele, l'unico bimbo in Italia affetto da una malattia rara di nome SIFD. Gabriele ha appena due anni di età e è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo, grazie al quale ha potuto finalmente vivere fuori dagli ospedali. L'associazione di volontariato, che porta il suo nome, vuole aiutare i tanti bimbi che ancora hanno bisogno di aiuto. Proprio per sostenere le attività sociali che interesseranno anche la città di Agropoli è stata avviata l'iniziativa Natale Contagioso. Attraverso l'acquisto di un panettone o di un pandoro sarà possibile contribuire alle attività dell'associazione Gabri Little Hero. Per poter acquistare i panettoni è possibile seguire le indicazioni della Locandina o contattare un privato su Facebook.